Sferrato un altro duro colpo al business delle corse clandestine, i carabinieri della compagnia di Vittoria hanno sequestrato ben 10 cavalli nel corso di un servizio finalizzato al contrasto delle corse clandestine. Solo un mese fa, lo scorso 19 settembre, avevano controllato 15 stalle, 30 cavalli di cui 13 erano stati sottoposti a sequestro con vincolo sanitario. Altro controllo in questi giorni che ha portato i militari dell'arma insieme al nucleo antisofisticazione e sanità di Raguse, veterinari dell'Asp, ad un controllo di una serie di stalle presenti nel territorio di Accata e Vittoria allo scopo di verificare le loro condizioni igienico-sanitarie, nonché la regolarità sotto il profilo amministrativo. I controlli messi in campo dei carabinieri sono finalizzati alla prevenzione al contrasto del business delle corse clandestine di cavalli. Nel compresso sono state controllate 10 stalle e 15 cavalli, di cui 10 sottoposti a sequestro con vincolo sanitario, vale a dire con diveto di utilizzo, movimentazione e macellazione, fino a quando non verrà chiarita la loro posizione amministrativa e sanitaria. Inoltre sono state effettuate alcuni prelevi ematici dagli animali ed elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 21.000 euro, per mancata concessione aziendale o sanitaria, mancata identificazione degli equini, movimentazione equini senza dichiarazione di provenienzo, messo aggiornamento e registro di carico e scarico e mancata attribuzione del codice aziendale. E' emerso altresì che alcuni dei proprietari degli equini sequestrati erano dei pregiudicati, di cui alcuni per reati inerenti le corse clandestine. Grazie